salve ragazzi e poi quando tua moglie ti chiama ti dice dove sei che fine è fatto io dove sono sto bene guardate dove sono che ne dite dove raggiungi la pace senza alcun stress nessuno che ti rompe le palle se solo tu alla natura guardate che bello energia pura ragazzi energia pura